Nuova accelerazione per il mercato automobilistico europeo. A febbraio le immatricolazioni all'interno dell'Unione sono state oltre 924.000, un aumento del 7,3% rispetto allo scorso anno. Merito delle crescite registrate in tutti i principali mercati, Germania, Francia, ma soprattutto Spagna e Regno Unito. A testa alta anche l'Italia, con uno scatto del 13,2%. I barlumi di ripresa economica intravisti a inizio anno cominciano a riflettersi anche sulle scelte dei guidatori. Rallentano i brand low cost come Dacia e Skoda, mentre i marchi principali sono in recupero.